La gara di oggi a Mantova è stata caratterizzata da brutte partenze, sono rimasto indietro subito alle prime curve, ho provato a recuperare ma la pista era difficile e c'erano tante buche. Tutto sommato però sono abbastanza contento con il quindicesimo posto finale, è stata una bella esperienza, è il primo anno che la faccio. Ringrazio tutti gli sponsor, i miei genitori, Eten e tutti quelli che mi seguono.